Con una rivoluzionaria sentenza di oggi, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha cancellato il diritto all'aborto per le donne americane. Una decisione destinata a fare la storia. Secondo i giudici statunitensi, la Costituzione americana non garantisce questo diritto e l'autorità per decidere spetta solo ai singoli stati. Di certo, il mondo dei diritti civili e dei diritti individuali ha fatto una svolta storica. Il mondo anglosassone, USA e UK in testa, sono sempre stati i punti di riferimento per questi diritti. Dalle loro legislazioni le generazioni politiche della seconda metà del secolo scorso hanno tratto ispirazione per affermare altrettanti diritti nei singoli paesi. Ma oggi non è più così. Il riferimento è diventata l'Unione Europea, non ancora unanime in materia come in Polonia, ma l'UE oggi è il maggior punto di elaborazione e riferimento per i diritti individuali. Gli USA, vedi anche quanto accade per le armi, hanno diversi problemi interni e cercano di risolverli solo guardando a se stessi, facendo mancare al mondo quel punto di riferimento che sono stati per anni sulle libertà individuali. Anche per altri diritti individuali, come quello magari alla migrazione, pur con tutte le problematiche che ci sono, l'Europa è molto più liberale rispetto alle restrittive disumane politiche britanniche e statunitensi. Questa è la legge. la legge. La legge. La legge.